Siamo al Bas Sablon, che è il bacino di fianco al porto di Saint Malo, dove le barche passeranno la notte alla boa, tra cui anche nel Green Power, Magalè, l'abbiamo portata fuori dal pontile dove era armeggiata insieme a tutti i class 40 le barche della regata, perché per un problema di chiusa, di marea e di logistica con 123 barche, le barche escono il giorno prima. Incredibile il passaggio dentro il bacino, perché c'era un tifo pazzesco da stadio, con migliaia di persone super esaltate, e questo ci fa capire ancora di più come la vela oceanica in Francia sia uno sport sentito. Fanno il tifo non per le barche, ma per i marinai, non li chiamano velisti, li chiamano marinai, e questo anche la dice lunga. Per oggi Andrea si è preso una giusta giornata di riposo, di concentrazione, domani verrà a bordo col gommone, salire su Magalè e da lì in poi è solo l'oceano.